Allora, buongiorno a tutti. Oggi approfittiamo del fatto che siamo tutti a casa per farci un viaggio a Parigi. Ovvero sì, proveremo a fare un esercizio che è ovviamente legato alla costruzione di un grafo e questo grafo, per costruire il grafo, prenderemo spunto da quella che è la mappa della metropolitana di Parigi di cui qua c'è una videata, tratta dai poster che si trovano nelle varie stazioni. Quindi immaginiamo di essere a Parigi e cominciare a prendere la metropolitana e dover trovare la nostra strada tra le diverse stazioni e, diciamo così, la mappa delle varie linee ovviamente si può rappresentare attraverso una struttura di un grafo in cui, ad esempio, le varie stazioni possono essere i vertici del grafo e le tratte delle linee possono essere gli archi del grafo stesso. Quindi se vogliamo rappresentare la metropolitana di Parigi con un grafo, lo possiamo fare e quindi da qui potremo, diciamo così, rappresentare tutti i percorsi possibili e fare anche, diciamo così, uno studio di quali possono essere i percorsi più convenienti per andare da un punto all'alto della città. Proviamo a soffermarci un attimo sulla tipologia di grafo di cui stiamo parlando. Allora, se vogliamo rappresentare questa cartina, noi abbiamo le varie stazioni che corrisponderanno ovviamente ai vertici del grafo e fin qui è facile, ogni stazione avrà un nome però, per noi un nome e magari anche altre proprietà del tipo le coordinate geografiche dove si trova esattamente. Quindi sarà un oggetto che contiene una serie di informazioni. Poi ci sono i collegamenti tra le varie stazioni. Ci sono alcuni che sono semplici, ad esempio tra queste due stazioni, questa e quest'altra, passa una sola linea di metropolitana e quindi ci sarà un arco che collega il vertice che corrisponde a questa prima stazione con il vertice che corrisponde alla seconda stazione. Quindi in questo caso, diciamo così, c'è un arco semplice tra due vertici, così come tra qua e qua e così via. Ovviamente avremo dei vertici come questo, sui quali incidono più linee, più connessioni, quindi ad esempio qua sulla fermata della Bastiglia ci sarà un arco che è quello viola, un arco che è quello arancio, un altro viola dal lato opposto, un altro arancio dal lato opposto, giallo, scusate, arancio verso il basso e giallo di nuovo verso sinistra. Quindi praticamente se non conto male, uno, due, tre, quattro, cinque, sei archi che insistono su Bastiglia, quindi sarà un nodo di grado sei, di archi che puntano, diciamo così, connettono con sei altre stazioni diverse tra di loro. Quindi sono di nuovo un vertice con sei connessioni, ma sono tutte connessioni semplici, distinte tra di loro. Ci sono invece dei casi, invece un pochino più complicati, se andate a vedere tra, se andiamo a vedere, ad esempio, fatemene prendere una, in cui ci siano ad esempio qua, ci sono dei tratti tra questa stazione e quest'altra, ci sono due linee diverse che collegano. Quindi in questo caso, se noi volessimo, adesso questo dipende da che cosa vogliamo fare, ma tra questo vertice e quest'altro vertice, tra il vertice di Richelieu e quello di Gran Boulevard, ci sono due linee diverse, quella verde e quella lilla. Allora, cosa succede? Che se noi vogliamo, se abbiamo bisogno di modellare la differenza tra le linee, abbiamo bisogno di un multigrafo. Cioè questo sarà un multigrafo perché ogni vertice può essere collegato a un altro vertice attraverso più di un arco. Se invece a noi interessa solamente sapere se quelle linee sono collegate oppure no, e non necessariamente, quelle stazioni sono collegate oppure no, e non necessariamente da quali linee, allora potremmo usare comunque un grafo semplice dicendo che questi due di sicuro sono collegate. Poi, appunto, come dicevo, se ci serve il dettaglio di quali siano, quali e quante siano le linee che li collegano, allora ci servirà un multigrafo. Quindi anche qua, la rappresentazione, il tipo di grafo da scegliere, dovremmo deciderlo noi, non solamente in funzione dei dati che vogliamo rappresentare, ma anche in funzione di che cosa dovrà fare l'applicazione. Questo, quindi, potrebbe essere un grafo o un multigrafo, a seconda che ci interessi, oppure meno tenere conto di quali siano le linee che collegano due punti, non solamente del fatto che siano collegati, per la gran parte questo grafo in realtà è un grafo che potremmo invece considerare un grafo non orientato, un grafo non orientato, salvo, se non sbaglio, ci siano alcuni angolini, che adesso devo vedere se riesco a ritrovare, in cui invece ci sono dei sensi unici, eccolo qua. Tendenzialmente è un grafo non orientato, tranne per questo tratto della cartina, in cui ci sono quattro stazioni, una, due, tre, quattro, sulle quali la metropolitana esegue un cerchio, in senso antioradio, e quindi non è vero che se c'è l'arco da qui a qui, ci sia anche qui da Bozzaris a Place de Fet, ci sia anche l'arco inverso da Place de Fet a Bozzaris, anzi, sicuramente a Place de Fet si può andare a Bozzaris, ma non direttamente, bensì passando attraverso altre due stazioni intermedie. Questo ovviamente fa sì che se vogliamo rappresentare anche questo dettaglio, saremo costretti a trattare un grafo di tipo orientato, che è un po' una sfortuna, perché se non sbaglio in tutta la cartina sono le uniche tre stazioni in cui questo succede. Per tutto il resto, essenzialmente, ogni volta che, come è quasi normale per la metropolitana, ogni volta che la metropolitana può andare da una stazione a una stazione successiva, ovviamente, scusa, può anche fare il percorso inverso. Quindi, a seconda del livello di dettaglio con cui vogliamo rappresentare questo problema, questo grafo sarà un grafo semplice, non orientato, oppure un grafo, un multigrafo, non orientato, oppure un multigrafo orientato, se vogliamo tenere conto anche di quel piccolo anomalia, che esiste solo in un angolino, che però se vogliamo rappresentare correttamente i percorsi, forse dovremmo tenere conto. Dipende chiaramente da quale problema vogliamo risolvere. L'altra informazione che ci può servire è il fatto che queste tratte non sono, ovviamente, tutte lunghe e uguali. Ci sono alcuni tratti che saranno molto brevi e altri tratti che, invece, saranno più lunghi. Ci sono alcune tratte su cui la metropolitana viaggia più rapidamente, più velocemente, e altre tratte in cui la metropolitana viaggia più lentamente. E quindi, gli archi di questo grafo non sono tutti uguali. Beh, sicuramente riferiscono sulla base della linea. Quindi la linea verde, la linea gialla, la linea azzurra, la linea rossa sono linee diverse. Possiamo tenere conto di questa informazione, oppure no. Se sì, ovviamente dovremmo tenere conto di questa informazione nell'arco, perché è l'arco che appartiene alla linea, non alla stazione stessa. Ma poi potremmo tenere conto nell'arco del tempo di percorrenza, o della distanza percorsa. E beh, dipende di che cosa vogliamo fare. Se vogliamo calcolare il tempo, cioè un percorso più rapido tra due punti, ovviamente ci interessa il tempo di percorrenza di ciascuna tratta. Mentre invece, se volessimo, che ne so, calcolare l'energia spesa, il carburante speso, mi interesserebbe forse di più la distanza, quindi la lunghezza percorsa in ciascuna tratta. Oppure potrebbe interessarmi la frequenza, quindi con quante veicoli passano, ogni quanti minuti passa il prossimo treno su quella singola tratta. Sono tutte le informazioni che potremmo volere memorizzare all'interno dell'informazione che rapprenta l'arco. Quindi non basta dire voglio rapprentare la cartina di Parigi, ma bisogna chiedersi e dobbiamo decidere che cosa ne vogliamo fare essenzialmente. Allora andiamo per gradi. Magari con il primo esercizio che facciamo su questo tema, partiamo da un compito relativamente semplice. Come io ho scritto qua sul repository, vogliamo costruire un grafo che permetta la ricerca dei percorsi all'interno della metropolitana di Parigi. E iniziamo semplice, iniziamo la versione semplice. Partiamo da un grafo semplice, orientato e non pesato. Quindi ho scelto di fare il grafo semplice, non mi interessano quindi le linee multiple, però mantengo il grafo orientato, perché voglio tenere conto di quel circolo di sensi unici che esiste purtroppo in una parte della città. Il grafo non pesato per il momento, poi potremo sempre crescere e chiaramente rendere più complessa la cosa. Allora, come facciamo a implementare questo esercizio? Quindi costruire un grafo che corrisponda a questa parte della cartina. Allora, per farlo io ho trovato dei dati che sono relativi alle varie stazioni e li ho importati e trasformati in un database SQL che ha questa struttura di base. Quindi ha una classe, una tabella linea, una tabella connessione e una tabella fermata che adesso andiamo ad analizzare nello specifico. Allora, questo è il database Metro Paris, Paris o Paris, connessione, fermata e linea. La tabella principale è quella della fermata, quindi la singola fermata, che come vedete ha un ID, un nome, magari ingrandisco un pochino così è più facile, bene, se riesco a impostare il mouse fino là, ecco, così forse è più facile leggere, purtroppo ID o SQL non ingrandisce facilmente queste parti dell'interfaccia. dicevo, c'è l'ID di fermata, il nome della fermata, quindi un identificativo unico, intero, il nome della fermata, ciò che viene visualizzato, e le coordinate XY, latitudine e longitudine dove si trova questa fermata. Quindi questo è un esempio in cui si possono vedere l'ID di fermata, il nome e le vade coordinate a cui si trova, diciamo, geograficamente sul mappamondo la fermata stessa. Per quanto riguarda la linea, la linea rappresenta le varie linee di metropolitana, quindi la gialla, la verde, l'azzurra, eccetera, eccetera, c'è una linea identificata da un nome, da una velocità di percorrenza media, dall'intervallo tra le corse, medio, e dal colore con cui è disegnato nella cartina. Quindi qui abbiamo un esempio, abbiamo una linea, qui ci sono 63 linee diverse, adesso la linea C ha una velocità media di 55 km all'ora, passa normalmente un treno ogni 15 minuti e viene disegnata sulla cartina con questo colore. Queste varie sottocategorie sono, diciamo, le varie tratte diverse della linea che vengono gestite in modo diverso, ma sono dettagli che non ci interessano moltissimo. Di fatto l'utente, quello che vede, vede la differenza tra i vari colori, quindi queste che sono tutte colorate nello stesso modo, anche se internamente sono etichettate in un modo diverso. La terza tabella è la tabella connessione. La tabella connessione è la tipica tabella di relazione, come abbiamo visto qua, collega le linee alle fermate. Collega le linee alle fermate. E quindi ogni tratto di fatto della metropolitana dice che la connessione, prendo una caso, numero 100, è relativa alla linea 1028, quindi la linea verde, la linea gialla, quello che sia, e collega la stazione 361 alla stazione 362. Quindi praticamente corrisponderebbe all'arco del nostro grafo. Il singolo arco. E quindi mi dice, di fatto una linea, ecco, è costituita da un insieme di connessioni, e ciascuna connessione, guardiamo il database, vedete qui c'è una molteplicità, una linea fatta di molte connessioni, ciascuna connessione collega due fermate. Una stazione di partenza e una stazione di arrivo. Qui, in questo database, c'è un po' di confusione sui nomi, nel senso che la tabella si chiama fermata, ma in questa tabella connessione in realtà viene chiamata stazione. È la stessa cosa, sono sinonimi, li trattiamo come sinonimi. Viceversa, dal punto di vista della fermata, la fermata potrà essere, diciamo così, citata, come stazione di partenza per più connessioni diverse di linee diverse, e potrà essere una stazione di arrivo per più connessioni diverse di linee diverse. Quindi è una relazione di fatto molti a molti tra linee e fermata, dove però questa relazione ha un'informazione doppia, cioè la fermata viene coinvolta due volte come partenza e come arrivo, quindi è una relazione un pochino più complessa del solito. Ok, costruiamo il grafo. Allora, partiamo da un database, da un progetto Eclipse, di cui ho pubblicato il progetto base su GitHub, il progetto Eclipse che si chiama anch'esso Metro Paris, e quindi creiamoci un branch all'interno del quale lavorare, così non modifichiamo quello che è il progetto base da cui potete provare a lavorare anche voi, rispetto a quello che risvolpiamo insieme. Soluzione, volta, video. Ok, una volta scrivevo a lezione, ma adesso non si può più. Allora, qui avevo già preparato un po' di classi, diciamo così, semplici, semplici, e in particolare ho una classe fermata, che rappresenta ovviamente la singola fermata, ID, nome e coordinate. Nel database, quindi stiamo abbastanza usando i criteri di ORM, perdon, sulla fermata c'è ID, nome e coordinate, e qui ho un oggetto che ha tra campi ID, nome e coordinate. L'unica differenza è che le coordinate non le ho memorizzate come latitudine e longitudine, come due numeri reali, ma ho fatto uso di una semplice libreria che si chiama Simple Lat-Long, Simple Latitude and Longitude, cioè una libreria che definisce un tipo di dato, latitudine e longitudine, coordinate, e di fatto mi dà già dei metodi per poter calcolare le distanze. È una classe molto semplice, dà dei risultati relativamente approssimati rispetto a quello che è, diciamo così, la complessità dei calcoli geografici, ma per i nostri scopi è comoda perché impacchetta in un unico oggetto l'altitudine e la longitudine, quindi non dobbiamo farci conti a mano con la trigonometria, il terremi di Pitagora e cose di questo genere, perché è tutto, diciamo, gestito da questa classe. E quindi l'ho memorizzata così. ID fermata, nome, coordinate, eccetera, eccetera. E' un oggetto in cui, come vedete, non c'è praticamente nulla, se non il getter e setter per i tipi di dati principali. Poi ho una classe linea, anche qua, ID linea, nome, velocità e intervallo, sono esattamente gli attributi della tabella, quindi ho mappato la tabella su una classe, come vedete qua non c'è nulla di più. E poi c'è la classe connessione, che richiede un pochino più di lavoro, nel senso che una classe connessione è una classe che ha delle relazioni. Nella tabella, nel database, abbiamo visto, andiamo a prendere il diagramma, che una connessione ha una relazione con una linea, ha una relazione con una fermata di partenza, e ha una relazione con una fermata di arrivo. Quindi, secondo il paradigma ORM, ci dice, guarda, è meglio se tu non rappresenti la linea come numero intero di linea, o la stazione di partenza di arrivo come ID, ma provare a presentare direttamente l'oggetto. E quindi vediamo che questo oggetto connessione contiene, sì, l'ID connessione che è un intero, ma poi gli altri tre campi, a differenza della tabella del database, che contiene numeri, numeri e numeri, qua contengo, qua invece rappresento oggetti, oggetti, oggetti. E ovviamente questi oggetti li devo andare a trovare, quando mi servirà. Quindi, al di là di questo, questo, lavoro oggetti, il lavoro ovviamente, il compito più ingrato sarà quello del DAO, in cui eventualmente deve andare a fare questo tipo di collegamenti. E per il resto, come sempre, è un oggetto semplice che non abbia metodi oltre che a 3.7. Oltre a questo, nel progetto base, cosa trovate? Trovate già una prima implementazione di un DAO che contiene due metodi, dammi tutte le fermate, che restituisce una lista di oggetti di tipo fermata, nome, cognome, coordinate, id, fermata, nome e coordinate. L'unica cosa di dettaglio, ovviamente, cioè, degna di dettaglio, è che quando costruisco l'oggetto, le coordinate, coordinate X e coordinate Y, vengono usate per costruire questo oggetto l'attitudine e longitudine, che poi inseriamo direttamente nell'oggetto. Quindi questo lat-long viene usato dal DAO per costruire subito l'oggetto lat-long e poi aggiungerlo alla mia collection. E anche qua mi pare ci sia un metodo, eccolo qua, get all-line, che fa esattamente lo stesso lavoro sulle linee. E quindi una query da tutte le linee del database e per ciascuno di queste tro, crea un oggetto linea in cui essenzialmente ci mette solamente i quattro valori, senza nessuna particolare elaborazione. Per pigrizia, ma anche così vi lascio un po' di lavoro che è la parte più interessante, non ho implementato in questo DAO in nessun metodo per leggere, per la lettura delle connessioni. Per verificare che tutto funzioni, c'è un piccolo test DAO che legge le fermate, le linee, le stampa, essenzialmente, nulla di particolare. Così verifichiamo che il database sia stato correttamente importato e che il DAO sia stato correttamente, diciamo così, eseguito. Questa videata che c'è qua sotto nella console riporta l'output del test DAO quando l'ho provato a eseguire un minuto fa prima di iniziare la lezione per essere sicuro che tutto fosse a posto. Quindi i primi due messaggi sono i messaggi del connection pool di Ikari che ci dice è tutto a posto, ho iniziato la connessione, ho iniziato il pool e questo è l'elenco della linea e questo è l'elenco della fermata e questo è l'elenco della linea. Questo è quanto. Allora, a partire da ciò vogliamo costruire un grafo come dicevamo, semplice, orientato che rappresenti i percorsi all'interno della metropolitana di Parigi. Allora, per farlo ci costruiamo una nuova classe model eccola qua all'interno della quale appunto rappresentiamo il grafo private graph graph graf ovviamente lo andiamo a pescare dalla libreria org.j graph.t lo possiamo chiamare grafo questo grafo che cosa avrà? Avrà vertici e archi che dobbiamo definire nel nostro caso il vertice del grafo sono le fermate quindi posso usare l'oggetto fermata mentre l'arco abbiamo deciso che il grafo per il momento sia un grafo non pesato quindi è un default edge quindi questo grafo lo dobbiamo leggere e popolare all'interno del modello e creare all'interno del modello quindi possiamo innanzitutto inizializzarlo nel costruttore public model definiamo un costruttore che crei l'oggetto grafo istanziando un nuovo ecco adesso a questo punto dobbiamo andare a ricordarci quali delle classi della libreria graph implementa il grafo che ci interessa in particolare il grafo orientato non pesato e semplice questo lo possiamo fare ad esempio andando a vedere le slide oppure la documentazione della libreria vado a prenderla da un browser faccio prima eccola qua c'è il graf t documentazione javadoc o prima immaginiamo il wiki che aveva questa bella paginetta eccola qua questa bella tabellina che è analoga diciamo così alle slide al selettore che avevamo implementato con le slide in cui ci serve avevamo detto un grafo non orientato quindi la seconda metà della tabella director c che non abbia cappi quindi qui abbiamo un no archimulti no pesato no quindi questo simple director graph quindi il tipo di grafo che voglio implementare è questo simple director graph orientato non pesato non multi e niente cappi quindi simple directed graph la tipologia i generi grafo lui li capisce chiaramente dal 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 dis.graph così come li abbiamo definiti quindi sarà un grafo che contiene le fermate ma devo dichiarare default edge punto class affinché lui possa internamente creare gli archi ok con questo abbiamo creato il grafo vuoto all'interno di questo grafo dobbiamo aggiungere vertici aggiungere gli archi allora i vertici è facile perché addirittura abbiamo già anche il DAO pronto quindi possiamo memorizzarci una lista di fermate fermata fermate la chiamo fermate naturale e questa lista di fermate dao.util.list eccola qua la posso leggere direttamente dal DAO quindi all'interno del model posso crearmi un metro DAO uguale new metodo DAO e chiedere al signor DAO di darmi una lista delle fermate dis.fermate uguale DAO punto get all fermate e fin qui sono a posto DAO punto get all fermate mi dà una lista che contiene tutte le fermate e di fatto sono quelle che abbiamo stampato qua sotto ciascuna di queste sarà un vertice del nostro grafo quindi aggiungere i vertici al grafo è un'operazione molto semplice devo semplicemente iterare su questa lista di fermate e per ciascuna fermata fare ADVERTEX aggiungendo il vertice ricordiamo che la lista di fermate è una lista di oggetti fermata e il grafo è un grafo di oggetti fermata i cui vertici sono oggetti fermata quindi i tipi di oggetti sono compatibili quindi si possono direttamente aggiungere questo lo posso fare anche usando la classe di utilità GRAFS GRAFS che è la classe che contiene i metodi statici di utilità che ha un metodo ADD ALL VERTICIS da aggiungi tutti i vertici che ci evita di dover fare il ciclo che vada a iterare su tutte le fermate lo fa direttamente riceve un grafo come parametro e una collection il grafo sarà il nostro di spunto GRAF e la collection di vertici ovviamente sarà di spunto fermate quindi in questo caso con queste tre istruzioni abbiamo popolato il grafo con i vertici che ci interessano in questo caso eravamo fortunati perché i vertici erano già esattamente i valori di una tabella per cui ci bastava il metodo del DAO per riuscire a leggerlo tutto verifichiamo prima di scrivere troppe righe di codice che tutto funzioni bene e quindi proviamo a stampare il grafo trendline di grafo this.graph magari ci mettiamo un nostro piccolo metodo di test per non creare una classe test model public static void main spring args e quindi possiamo semplicemente model m uguale new model e semplicemente creare il modello fa sì che venga eseguito il costruttore dentro il costruttore stiamo costruendo il grafo e lo stiamo anche stampando a scopo di debug ovviamente possiamo decidere a seconda delle esigenze della nostra applicazione se il grafo abbia senso costruirlo nel costruttore del modello oppure avere un metodo a parte quindi il costruttore del modello costruisce solamente alcune strutture dati minime e poi abbiamo un altro metodo magari crea grafo build grafo qualcosa di questo genere del model dentro il quale andiamo a inserire la creazione del grafo vera e propria questo perché quando io nella tipica nostra applicazione JavaFX il modello lo creo direttamente nel main prima di aprire l'interfaccia grafica e quindi se la creazione del grafo fosse un'operazione particolarmente lunga allora averla nel costruttore del modello che mi blocca l'avvio della finestra potrebbe creare un po' di confusione negli utenti che vedono che l'applicazione non sta partendo in realtà è partita sta leggendo il grafo ma loro non vedono nulla quindi in quel caso magari è meglio rimandare la creazione del grafo a un secondo momento quando magari l'utente richiede qualche azione però questo è un dettaglio che ovviamente dovremmo valutare di caso in caso o di applicazione in applicazione però vediamo se funziona quindi prendo questo model e provo a fargli un run lo salva lo compila e mi stampa effettivamente vedete che qua sta usando lo sintassi del libro di Geograph T quindi aperta tonda elenco di vertici elenco di archi quindi qui ci sono gli elenco di vertici che sono i nomi delle stazioni delle fermate e dopo tutto questo lungo di fermate ci sarà l'elenco degli archi del grafo che in questo caso ovviamente è ancora vuoto elenco degli archi e poi chiuso tonda per chiudere la coppia di elementi che rappresenta il grafo quindi in questo caso mi sono spostato col cursore della parte sbagliata eccolo qua in questo caso sembra che i vertici del grafo siano stati caricati correttamente adesso aggiungiamo gli archi aggiungiamo gli archi bisogna averli gli archi allora quanti modi ci sono quali modi ci sono per poter creare un grafo allora le prime volte ci eserciteremo e vedremo e vedremo tre modi principali per creare i vertici di un grafo poi in modo da impratichirci con diciamo così metodi principali utilizzati e poi più avanti chiaramente almeno sapremo orientarci su quale delle modalità la prima modalità che che adottiamo è una modalità molto semplice la più semplice di tutta è molto spesso la meno efficiente rischia di essere la meno efficiente su che cosa si basa si basa sul fatto che il grafo ha un certo numero di vertici e per ogni coppia di vertici può esserci o non esserci un arco allora noi possiamo chiedere al grafo per ogni coppia di vertici se l'arco c'è o non c'è meglio questo grafo ovviamente non lo sa ancora e quindi per poter rispondere dovrò andare nel DAO e dire senti tu da caro DAO interrogando il database dimmi un attimo se tra questa coppia di stazioni c'è o non c'è una connessione allora questo è molto semplice da fare andiamo ingrandiamo di nuovo Eclipse perché diciamo creazione degli archi mentre prima la creazione dei vertici era questo semplice guardate queste due semplici istruzioni creazione dei vertici faccio una chiamata al DAO per avere i vertici e poi una chiamata al grafo per dire aggiungili una cosa da nulla la creazione degli archi diciamo chiamiamola metodo 1 tutte le coppie coppie di vertici chiamiamola così cosa vuol dire? vuol dire che io posso considerare tutte le possibili coppie di vertici per ciascuna coppia di vertici mi chiedo se devo aggiungere l'arco o no se devo aggiungerlo lo aggiungo quindi a livello di codice è una cosa molto semplice ho due cicli annidati FOR fermata F fermata di partenza due punti di spunto fermate poi FOR fermata di arrivo FA che itera sopra di spunto fermate mi chiedo if esiste una connessione tra FA ed FB se esiste come se FA è collegato ad FB una traccia che va da FA a FB che va da ADFB se esiste ovviamente qua poi dovremo sostituire il codice reale e cosa devo fare? dovrò aggiungere l'arco e quindi il grafo ADFB ADFB aggiungo un arco tra FA ed FB nel caso è un grafo non pesato e quindi una volta che ho aggiunto l'arco non ho altre informazioni da aggiungere questo è un modo più semplice a noi serve solamente un metodo per dire date due fermate dimmi se esiste o no un arco tra queste due o meglio una connessione della metropolitana di una qualunque linea non mi importa che vada da FA a FB tra una stazione e un'altra stazione ma questo lo possiamo fare in modo relativamente semplice perché il nostro database ha già una tabella connessione che faccia questo data una stazione di partenza una stazione di arrivo ad esempio tra 160 e 231 io so che esiste almeno una linea che le collega in questo caso la linea 1026 poi può darsi che queste due stazioni siano anche a loro volta collegate da altre linee non lo so può darsi a me interessa se ce n'è almeno una quindi io potrei conoscendo queste due stazioni andare a controllare select potremmo leggere tutto from la tabella si chiama connessioni where where la stazione di partenza che si chiama id stazione di partenza è uguale a 360 and id stazione di arrivo è uguale a 231 abbiamo preso una a caso in questo caso mi dice si ce n'è una se io avessi preso un'altra stazione di arrivo non mi direbbe che ce n'è nessuna mi direbbe che non ce n'è nessuna che non ce n'è nessuna quindi in questo caso con una query che si basa su questo possiamo ottenere se c'è o se non c'è la stazione oppure visto che a me non interessa molto ma mi interessa solamente quante ce ne sono se c'è se qui c'è un 1 allora vuol dire che l'arco c'è se c'è 0 vuol dire che l'arco non c'è quindi con questa query semplicissima io posso farmi dare dati due stazioni una di partenza una di arrivo il numero di archi che le collegano se questo numero è 1 oppure maggiore di 1 vuol dire che c'è una o più di una linea che collega direttamente queste due stazioni altrimenti è 0 quindi vuol dire che queste due stazioni non sono collegate e io non dovrò ovviamente aggiungere l'arco allora sapendo questo lo possiamo aggiungere al DAO andiamo a prenderci il nostro metro DAO e ci aggiungiamo un metodo public boolean fermate con s da fermata fermata di partenza a fermata fermata di arrivo questo metodo dovrà di fatto eseguire questa query andiamo a prenderla incolla devo fare attenzione se vado su più righe e aggiungo sempre uno spazio perché altrimenti ok punto e virgola questa query attenzione deve essere parametrizzata quindi stazione di partenza uguale a punto derogativo stazione di arrivo uguale a punto derogativo e allora devo semplicemente eseguire questa query sul mio database quindi dunque devo aprire una connessione o meglio prenderla in prestito dal mio connection con uguale db connect dal mio connection pool ikari sto prendendo in prestito una connessione creo un nuovo statement prepare statement st uguale connection punto prepare statement di questo sql che ti ho appena dato ovviamente ci vuole il mio caro try catch per garantire che venga trovato un possibile errore di connessione o di recuzione e poi devo impostare i parametri della query quindi questa query avrà due parametri la stazione di partenza e la stazione di arrivo che sono entrambi dei numeri interi quindi setint il primo parametro è l'id della stazione di partenza quindi fp attenzione che è un oggetto quindi devo prendere get id fermata per prendere l'id della sua stazione setint stessa cosa 2 fp punto get id fermata non fp scusate fa fermata di arrivo id fermata quindi ho parametrizzato la query ho inserito i parametri posso eseguire la query result set result set uguale statement punto execute query execute query punto e virgola se tutto va bene la query mi restituisce una tabellina uno per uno fatemi aggiungere il nome sc il nome a questa colonna perché altrimenti la colonna è un po' scomoda da leggere perché si chiama count asterisco se invece la chiamo sc la rinomino e si chiama c e quindi a questo punto è molto facile per me andare a prendere innanzitutto portarmi sulla prima riga result set punto first vai sulla prima riga io avendo fatto una select count sono sicuro che la riga ci sia nel caso in cui non ci fosse ovviamente salta fuori un'eccezione ma vuol dire che c'è qualcosa di particolarmente strano se c'è la prima riga mi posiziono sulla prima riga e poi posso avere leggere il valore intero del numero di connessioni numero di linee che collegano le due stazioni semplicemente andando a interrogare get int della colonna che si chiama c e a questo punto ritorniamo vero o falso a seconda che linee sia maggiore o uguale a 1 quindi se linee è maggiore o uguale a 1 ritorna vero se linee invece non è maggiore o uguale a 1 cioè uguale a 0 ritornerà falso l'ho sintetizzato semplicemente ritornando il valore di questa espressione booleana quindi fatto questo chiudo la connessione ricordiamocelo non l'ho fatto prima connessione.close e di fatto la restituisco al connessione.tool certo lo devo fare prima del ritorno fatto dopo il ritorno non servirebbe a molto ok questo è il semplicissimo nostro metodo DAO del DAO mi segnalo un errore dove boolean ah ok perché in realtà non sto ritornando in tutti i casi perché se arrivo nel catch e non faccio l'istruzione return mettiamo return false in fondo per buona misura ok non dovremo mai arrivare qua sotto perché in realtà di solito dovremmo arrivare qua a meno che non ci sia un'eccezione allora proviamo a vedere se il nostro model funziona a questo punto perché se esiste una connessione noi lo possiamo fare lo possiamo tradurre in java non è più un commento ma usando il metodo fermate connesse tra fermate di partenza e fermate di arrivo questo metodo fermate connesse mi ritorna un boolean e questo boolean viene usato direttamente dal leaf e vediamo a questo punto se dopo aver fatto tutto questo il grafo è cambiato allora proviamo a eseguire nuovamente il model sa fb non è fb ma è fermata di partenza qui sbagliato tutto fermata di arrivo fermata di partenza fermata di arrivo ok salviamo e proviamo ad eseguirlo l'ha fatto l'ha fatto in un tempo anche relativamente rapido facciamo solo un modo per visualizzare un pochino meglio queste informazioni eccolo qua allora l'egrafo questo è l'elenco dei vertici che finisce grosso modo ops qui l'elenco degli archi invece ma l'ha fatto perché non stampa una volta solo devo stampare due volte lo devo stampare qua e anche qua riproviamoci un altro model vai ah ok no semplicemente non l'avevo ancora terminato stavo ancora calcolando quindi questa stampa qui è questa in cui abbiamo stampato il grafo appena abbiamo creato i vertici e questa seconda stampa in realtà non l'ha ancora fatta non lo stiamo ancora facendo vediamo qua infatti il programma è ancora in esecuzione perché richiede un certo tempo cosa sta facendo adesso il programma in questo momento in questo momento il programma sta considerando tutte le fermate che sono 619 in coppia con tutte le altre fermate quindi sta facendo quante query sta facendo 619 per 619 query 383.000 query 383.000 query le quali impiegano ciascuna quanto tempo ne impiegano circa qualche millisecondi perché vedete che qua la durata di questa query non è neanche in grado di riuscire di misurarla la durata proseguirla 16 secondi un centesimo di secondo diciamo grosso modo 231 provo a eseguirla un millesimo di secondo perché probabilmente aveva già risultato se io prendessi un altro numero diciamo così quindi intorno un millesimo di secondo un millesimo di secondo vuol dire che io questa cosa qua per fare 380.000 query diviso 1000 dovrò aspettare circa 300 secondi cioè c'è circa 5 minuti e infatti il nostro e per conferma il nostro database sta lavorando perché se io vado con id sql a vedere i processi in esecuzione del database dov'è penso sia qua eccolo qua vedete che lui sta eseguendo qua delle query adesso qua ho fatto casino io ho eseguito due programmi in parallelo quindi sta facendo query a manetta quindi devo riuscire a fermarne almeno uno dei due ok questo qui ok questa qui è ancora in esecuzione avevo peggiorato le cose perché avendo avevo lanciato due volte il programma e quindi prima che il secondo finisse l'ho rilanciato prima che il primo finisse l'ho rilanciato quindi queste sono tutte allora cosa vediamo qua qui vediamo tutte le connessioni che sono state aperte sul database Metro Paris queste sono tutte connessioni aperte dal nostro connection pool il nostro connection pool pur avendo aperto molte connessioni adesso il programma è fermo in un doppio loop seriale sequenziale quindi in realtà queste connessioni non le può usare in parallelo ne usa una sola per volta e adesso stava eseguendo il controllo tra la stazione 170 e la 221 se io aggiorno questa finestra mi dirà che adesso sta controllando la 206 con la 507 e mentre parliamo sta andando avanti 209 con la 217 e così via e quindi dovremmo arrivare siamo un po' oltre il tempo di esecuzione un po' oltre la metà del tempo di esecuzione tra un po' prima o poi speriamo che finisca che il programma riesca a terminare allora questo è un metodo adesso mentre noi andiamo avanti con il ragionamento il programma continuerà ad andare avanti e poi speriamo di riuscire a vedere il risultato non appena il programma sarà terminato quindi funziona è semplice può essere lento pur facendo una query molto molto semplice come abbiamo visto il tempo di esecuzione è intorno al millisecondo però un millisecondo eseguito 300.000 volte significa 5 minuti questa non è una questione di complessità la complessità qua n quadro è semplicemente il numero di operazioni da fare allora se il grafo è piccolo quindi non abbiamo tantissimi vertici in questo caso 600 vertici sono già un certo numero ma se il grafo fosse più piccolo questo metodo va benissimo quando il grafo comincia ad avere certe dimensioni qui appunto avendo 300 vertici 300 vertici cominciamo ad avere 300.000 combinazioni diverse e beh questo qua ci stiamo già accorgendo anche se è un esercizio semplice semplice che richiede un certo tempo e magari non siamo disposti ad accettare questo tempo allora come possiamo fare ovviamente mentre vi sto chiacchierando lui sta andando avanti quindi prima o poi stamperà qua sotto la soluzione il grafo creato ma nel frattempo chiediamoci stiamo facendo riusciamo a farlo in modo migliore beh allora in questo modo noi stiamo considerando praticamente i potenziali archi 1 a 1 i potenziali archi 1 a 1 quindi sto immaginando come se il mio grafo fosse un grafo completo con densità 1 quindi numero di archi pari a n quadro numero di vertici al quadrato e sto andando uno per uno a dire ma tu ci sei davvero e per ciascuno di questi faccio una query del database e una query del database ovviamente richiede il suo tempo e sto usando il database per avere un'informazione veramente di basso livello cioè un database che è in grado di fare query anche complicatissime e noi gli stiamo chiedendo senti dimmi se c'è un arco tra questi due vertici sì o no potrei usare il database meglio potrei chiedere al database data una stazione di partenza mi dici quali sono tutte le stazioni di arrivo allora in questo caso io potrei ridurre drasticamente il numero di query perché data una stazione di partenza io potrei prendere la prima stazione di partenza e farmi dare al database tutte le stazioni di arrivo quindi con una query sola mi faccio dare tutti gli archi uscenti da quella stazione poi passo alla seconda stazione e chiedo al database attraverso il DAO chiaramente dammi le stazioni connesse a questa e allora lui mi darà in un colpo solo tutte le stazioni raggiungibili dalla seconda e così via allora cosa sto facendo? sto facendo delle query magari che sono un pochino più complicate perché non restituiscono un valore solo un risultato solo bensì restituiscono un insieme di valori però tutto sommato il database è stato inventato per questo quindi dovrebbe lavorare bene in questo senso ma riesco a ridurre drasticamente il numero di query che faccio perché non farò più una query per ogni potenziale copia di vertici tra 100.000 ma farò solamente più una query per ogni vertice per ogni stazione di partenza quindi sto passando da un numero di query pari a n quadro a un numero di query pari a n un anno di query che magari è un pochino più complicata però direi che il guadagno ci può essere allora proviamo a pensare a quale potrebbe essere una query diversa mentre questo signore il nostro amico sta facendo il controllo della stazione di partenza 456 quindi siamo più o meno a 4 sesti del numero di stazioni da provare quindi nel frattempo lasciamolo lavorare mentre lui lavora io mi preparo un altro query sempre andando a vedere la mia bella connessione chiaramente allora data una stazione di partenza questa qua la stazione di partenza 526 questo mi dice che ad esempio dalla stazione 526 si raggiunge la 50 ma si raggiunge anche la 259 magari anche altre ecco per carità perché queste qui sono relative alla linea 1026 e quindi il database mi può dire molto facilmente allora sempre dalla tabella connessioni in questo caso from connessione dove ti impongo solamente la stazione di partenza where stazione di partenza è uguale a prima avevamo preso la 360 e se eseguo questa interrogazione mi dice che dalla 360 posso arrivare alla 231 oppure alla 180 e quindi questi sono i due dati che mi interessano tra l'altro poiché non mi interessa l'ID di linea io potrei semplicemente estrarre semplicemente l'ID della stazione di arrivo anziché tutte le colonne e quindi queste sono informazioni che mi servono allora se io faccio una query di questo genere avrò un insieme di risultati che mi dice che il numero gli archi uscenti dalla stazione 360 è due e la stazione dopo che è la 231 ne ha altri due e quella dopo che è la 516 di cui ovviamente una è la 360 e quella dopo la 516 ne ha altre due e va avanti così in realtà qui siamo su un tratto lineare adesso non so dove sono sulla mappa ma siamo su un tratto lineare dove non ci sono biforcazioni se andassimo avanti probabilmente ora arriviamo al capolinea e al capolinea ovviamente ho una 259 ho una sola connessione e così via vabbè quindi faccio questo e lo ripeto per ogni stazione di partenza possibile tra l'altro nel frattempo mentre parlavamo come dicevo il grafo ha finito cioè il programma è terminato ha finito di creare il grafo vediamo proviamo a vederlo allora qui c'è tutto l'elenco dei vertici eccetera poi vedete qua c'è virgola aperta chiuda aperta quadra c'è questa aperta quadra chiuda che è l'elenco dei vertici e l'aperta quadra aperta che è l'elenco degli archi e qui abbiamo tutti gli archi uno dopo l'altro uno due tre quattro cinque eccetera e qui va avanti ovviamente per molte molte linee con tutte le coppie di stazioni che corrispondono ai vari archi della allora lui poveretto ha fatto 300.000 prove ma in realtà il numero di archi che ha inserito non è così tanto grande non ha 300.000 linee qua ne abbiamo molte di meno perché ovviamente questo grafo è particolarmente sparso allora se noi vogliamo avere un'idea potremo stampare format ad esempio il numero di archi e il numero di vertici grafo caricato con percento di vertici e percento di archi senza necessariamente stamparli tutti perché adesso abbiamo capito che ci sono non abbiamo capito come sono fatti però sono anche difficilmente leggibili quindi stampiamo semplicemente un messaggio di questo genere il numero di vertici è come lo ottengo da this vado a capo this.graph .vertexset .size non c'è un metodo per dirmi subito quanti vertici ho ma c'è un metodo per darmi il vertex set e quindi la stessa cosa con gli archi edge set .size quindi dal grafo mi faccio dare dammi il set di vertici e stampo la dimensione di questo insieme allora ricevamo il metodo 2 creazione degli archi metodo 2 da un vertice vertice trova tutti connessi quindi facciamo lavorare un pochino di più il database e un pochino di meno il programma torniamo a schermo grande così lasciamo leggere insieme il codice allora in questo caso dicevamo definiamo tutte le stazioni di partenza fermata fp fermata di partenza e lì ovviamente le numero tutte e fin qua non cambia nulla ma poi per ciascuno di fermata di partenza io mi faccio restituire la lista di fermate connesse a questa quindi tutte le fermate raggiungibili direttamente non raggiungibili scusamente adiacenti ad fp tutte le fermate facendo la query che abbiamo visto prima a questo punto una volta che ho questa lista vorrà dire che dovrò creare aggiungere un arco per ciascun elemento di questa lista vabbè allora scandisco questa lista for fermata fermata di arrivo due punti connesse cosa dovrò fare aggiungerò di spunto graph un arco ad edge tra fermata di partenza e fermata di arrivo poi mi dite ma anche qua hai messo un doppio loop e quindi alla fine sei sempre su una cosa che è grossa che ha una complessità pari a n quadro e beh no perché il loop esterno mi dirà itererà n volte dove è nel numero di vertici ma il loop interno itererà un certo numero di volte che è pari al grado anzi all'out degree del nodo allora l'out degree di un nodo sarà 2, 3, 4 non è 600 ok la maggior parte dei casi abbiamo fatto un po' di query a caso ma veniva sempre 2 quindi la maggior parte dei casi le situazioni connesse sono solamente 2 e quindi non abbiamo una complessità pari a n per n numero di vertici per numero di vertici bensì abbiamo una complessità pari a n per grado del vertice n per grado medio dei vertici e quindi di fatto questo non è n quadro bensì n quadro per la densità del grafo se ci pensate che il grado dei vertici il rapporto tra il grado medio di un vertice e il numero totale di vertici è esattamente la densità è esattamente la densità del grafo e quindi avendo se i vertici avesse un grado di uscita di 600 avremmo un grafo quasi completo e quindi di fatto non avremmo guadagnato nulla ma poiché la densità di questo grafo è circa 2 3 su 600 quindi il grado medio fratto il totale di vertici 2 3 su 600 è un centesimo vuole dire che questo programma andrà 100 volte più veloce quindi avrà una complessità che non è pari a n quadro ma n quadro per densità del grafo per questo vi dicevo quando parlavamo dei grafici che la densità è un fattore molto importante per capire se un algoritmo vale la pena di essere implementato oppure no se la densità qua fosse 0,8 non vale la pena non guadagno quasi nulla poiché la densità qua è un centesimo è molto bassa allora vedremo che questo algoritmo funziona molto meglio di quello precedente a patto ovviamente di andare a implementare nel DAO questo metodo e allora facciamolo ma non sarà un gran che complicato ormai la quiz l'abbiamo fatta quindi possiamo costruire un metodo nel DAO torno alla classe DAO public questa volta devo restituire una lista di fermata lo chiamo fermate connesse quindi da questo l'avevo chiamato fermate connesse e quindi fermate successive a fare successive date da una fermata sola fermata di partenza se io ti do la fermata di partenza tu mi dici quali sono quelle di arrivo e questo lo possiamo fare abbiamo già capito qual è la quiz perché l'abbiamo testata prima andiamoci a prendere da ID con questa cosa qua che è molto semplice tra l'altro ecco io scusate magari ci metterei davanti un distinct ecco vedete perché se per caso io avessi una una stazione con più linee ma già stazione 1 che collega che si collega con una linea a una stazione 2 e con un'altra linea sempre a stazione 2 allora con questa quiz il 2 mi comparerebbe 2 volte è uno spreco perché ovviamente io l'arco lo devo mettere una volta sola perché è un grafo semplice quindi evito di farmi generare dei duplicati semplicemente li blocco prima nel database quindi è sempre meglio non avere i dati piuttosto non avere i dati inutili piuttosto che averli e doverli poi cancellare o gestire dopo allora dopo il copia e incolla mettiamo a posto questa query per farla sembrare una stringa decente in java quindi metto metto uno spazio qua metto uno spazio qua e metto il punto interrogativo al posto del parametro ricordatevi questi spazi che se io non mettessi lo spazio andando a capo con la stringa così avrei la w di where e la e di connessione attaccate e questo creerebbe un errore di sintassi quindi quando vedete una stringa una query che vi sembra perfetta ma invece il database vi dice che è un errore di sintassi ricordatevi di andare a controllare gli spazi allora una volta che abbiamo questa query ovviamente faremo la stessa cosa che si fa sempre quindi creiamo una connessione la chiediamo al nostro dbconnect dbconnect punto get connection che la prenderà in prestito dal pool magari la chiudiamo così non ci dimentichiamo di farlo dopo queste parti sono un po' ripetitive ovviamente ma come abbiamo già ok adesso qui mettiamo tutto in un try catch ci mettiamo dentro anche questo tanto male non fa così abbiamo tutto in un unico blocco e a questo punto facciamo l'istruzione della propria prepare statement st uguale connection punto prepare di sql a questo statement dobbiamo settare un parametro ce n'è un solo uno e deve essere fp fermata di partenza get id fermata eseguo la query result set res uguale statement punto execute query fin qua tutto standard e adesso questo result set ovviamente mi dovrà popolare il risultato che ritorno la list fermata che dovrò list fermata result uguale new array list di fermata lo creo all'inizio e così semplicemente qua farò un result punto add no non è una lista di fermata ma è un ecco qua qua si complica un pochino la vita io questa query non mi dà un oggetto fermata ma mi dà l'id della stazione l'id della fermata quindi io qua dovrei conoscere non posso allora io posso quello ciò che posso fare dal result set vediamo un po' result set punto get int posso chiaramente prendere id stazione di arrivo che è ciò che ho richiesto però per poterlo aggiungere al grafo io ho bisogno non solo del id di stazione di arrivo ma dell'oggetto stazione di arrivo dell'oggetto fermata corrispondente alla stazione di arrivo allora qui ho due modi da qualche parte dovrò prendere questo intero e convertirlo in un oggetto fermata lo posso fare dentro il dao e quindi prendere questo numero intero int id arrivo id staz id dfa l'id della fermata di arrivo id fermata arrivo corrispondente e devo trovare l'oggetto fermata corrispondente qui ho due scelte posso decidere che questo metodo del dao deve fare questa conversione e quindi deve convertire questo id fermata di arrivo in un oggetto fermata oppure posso decidere che questo metodo del dao ritorni un tipo integer quindi una lista di interi e poi ci penserà il model a farsi la conversione tra la lista di interi e la lista di fermate quindi in realtà questa è la lista di fermate e sarà una lista di interi e quindi quando devo aggiungerlo devo convertirlo ovviamente da qualche parte lo devo fare a me pare più pulito proprio per il ragionamento che abbiamo fatto un attimo fa di far fare questo lavoro al dao ma il dao poveretto come fa avendo un numero intero a restituirmi un oggetto fermata lo può fare in due modi lo può fare in due modi uno faticoso ho un numero intero faccio una query e ottengo l'informazione sulla fermata e poi mi costruisco un oggetto fermata però è un po' uno spreco perché devo fare una query per ottenere un'informazione che ho già perché il model l'elenco delle fermate ce l'ha già quindi tanto vale che il dao usi questa lista per trovare l'oggetto fermata corrispondente ovviamente trovare un elemento all'interno di una lista di fermate trovare quale fermata ha l'id specificato quindi quale è la fermata con l'id 402 devo scandirmi tutta la lista che è un'operazione poco efficiente allora qua entra in gioco il pattern di programmazione che abbiamo già visto che è quello della identity map torniamo indietro al problema il problema è la query mi istituisce un id fermata mi istituisce la chiave primaria e quello è il modo normale di pensare del database a me serve un oggetto come faccio a ottenere l'oggetto metodo 1 lo chiedo al database quindi faccio una query in più metodo 2 probabilmente questa informazione ce l'ho già la rendo facilmente accessibile costruendo una mappa una mappa che mi faccia già direttamente la corrispondenza tra la fermata tra il numero intero id della fermata stessa e l'oggetto fermata che lo rappresenta costruire questa identity map è facilissimo perché una volta che io ho ottenuto tutte le fermate e basta semplicemente aggiungere questi riferimenti allora facciamo questo passo in più creiamo dentro il modello una mappa che mappi degli interi su delle fermate fermata questa mappa sarà già appunto utile punto mappa attenzione a quale prendete che a volte il primo non è quello giusto e la chiamo fermate id map così mi ricordo che cos'è identity map legata alle fermate questa mappa la posso inizializzare appena ho letto le fermate quindi get all fermate mi dà tutte le fermate e da queste io posso inizializzare l'identity map potrei anche inizializzare dentro il dao è uguale in questo caso ce l'ho qua comoda allora il fermate dopo che ho tenuto le fermate come lista inizializzo l'id map new hash map integra beh integra il tipo lo conosce già e iter sulle fermate f due punti dis punto fermate per ciascuna fermata aggiungo la scorciatoia allora guardate qua hash map devo mettere java punto utile e fermata si chiama fermate devo aggiungere la scorciatoia quindi fermate id map punto put la chiave f punto get id fermata il valore f quindi ho una mappa che mi mappa appunto scusate la ripetizione l'id della fermata sull'oggetto fermata qui vediamo cos'è che pensa rabbia questo signore qui hash map devo parametrizzare ok c'è troppo parentesi è qua ok ok c'è un parentesi di troppo quindi in questo caso ho preso le fermate la lista ce l'ho la lista di fermate la sto usando più volte ma mi costruisco anche in più una mappa che mi sia di fatto una versione accelerata per poter passare dall'id alla alla fermata stessa iter ovviamente ho un ciclo qua che mi itera 600 volte ma lo faccio una volta solo all'inizio e poi ho tutto dentro la mappa che è un tempo d'accesso costante ricordiamo che il tempo d'accesso a una mappa a una tabella di hash è od1 se la tabella di hash non degenera quindi riesco a lavorare a ottenere l'oggetto fermata appartenendo all'id con un costo che è od1 costante senza dover ricorrere al database questa mappa ovviamente è oro che cola per il DAO il quale ha l'intero il numero intero e deve ottenere l'oggetto allora possiamo prendere questo e passarlo al DAO quindi facciamo in modo che questo metodo delle fermate successive oltre alla fermata che è il valore che gli serve riceva anche l'idmap map integer virgola fermata fermata idmap quindi avendo questo il DAO può molto facilmente adesso ha questo numero intero può aggiungere alla lista di fermate un oggetto fermata ottenendo interrogando l'idmap fermate idmap com'è che lo chiamate fermate idmap idmap punto get id fermata di arrivo quindi io estraggo il database un intero interrogo l'idmap mi faccio dare l'oggetto e aggiungo la lista all'oggetto qui ci vogliono le apici doppi e non singoli ok dovremmo escire abbastanza a posto e poi dopo che chiudo la connessione ritornerò il risultato ma questo è il risultato guarda lo posso lo posso anche mettere in fondo così Java non sa rabbia vediamo il risultato nel caso in cui arrivi da sotto con un errore ovviamente ritornerà un array list vuoto perché l'ho appena creato fuori ma non sono riuscito a riempirlo se si è verificata un'eccezione ma a parte l'eccezione questo dovrebbe fare al caso nostro quindi abbiamo fatto la query la query si è dato i numeri attraverso l'idmap dai numeri passiamo ai valori ricordiamoci che l'idmap dobbiamo averla creata prima ovviamente prima di poterla usare ma l'abbiamo creata subito quando abbiamo letto le fermate all'interno del mod fatto tutto questo giro possiamo tornare al nostro metodo di creazione degli archi dove sostituiamo a questa frasetta in italiano il metodo del DAO fermate successive che riceve FP cioè la fermata di partenza e l'idmap delle fermate quindi proviamo a commentare il metodo 1 che funzionava ma era lento e proviamo a vedere come si comporta questo secondo metodo facciamo run e ovviamente abbiamo un'eccezione ma non possiamo sperare di beccare la giusta al primo vabbè certo 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 qui mi da tante eccezioni current position is before the first row perché non ho iterato sul result set mi sono fatto perdere mi sono concentrato sull'idmap e poi mi sono dimenticato di fare il while per iterare sul result set while result set punto next e ho fatto per errore getint essendo prima della prima riga quindi non sono ancora dentro il result set devo iterarlo così while result punto next allora a questo punto per ciascuno di questi vado a prendere l'id e lo aggiungo e poi chiudo la connessione ok riproviamoci questo è un altro mestiere 619 verzi 1428 archi creati in meno di un secondo ci aspettavamo era 500 almeno 100 volte più veloce quindi da 5 minuti siamo scesi a qualche a qualche secondo così contato a spalle quindi in questo caso cosa abbiamo fatto abbiamo lavorato un pochino di più abbiamo fatto una query che non ritornasse un valore solo ma ritornasse direttamente un insieme di archi destinazione in questo caso in questo database era facile da trovare per fortuna ci siamo fatti aiutare dall'idmap per poter ragionare con gli oggetti perché se avessimo avuto l'intero qua non potevamo aggiungerlo al grafo ad edge non vuole un intero vuole un oggetto fermata e quindi avrei dovuto scandirmi la lista con l'idmap ho evitato la scansione della lista e quindi ho avuto un'operazione molto più rapida da parte del DAO per ottenermi per ottenere l'oggetto fermata e ho aggiunto l'arco quindi questo è un pochino il modo più veloce esiste anche un terzo modo in questo caso non è necessario questo metodo qua è la complessità pari a n n se vogliamo per una query che potrebbe essere un pochino più pesante per il grado medio dei vertici quindi il metodo 2 è preferibile rispetto al metodo 1 se il grado medio dei vertici è basso rispetto al numero di vertici che come dicevo prima è uguale a dire se la densità del grafo è bassa altrimenti se la densità è alta quindi il grado medio dei vertici è circa uguale o dell'ordine di grandezza e il numero di vertici non si stiamo guadagnando nulla esiste anche un altro metodo che sarebbe quello di farci dare direttamente dal database se ci riusciamo già esattamente gli archi che ci servono quindi io provo a scrivere creazione degli archi metodo 3 e lo chiamo il database mi dà già mi chiedo al database l'elenco degli archi poi magari cerco di scriverlo in italiano e elenco ok cosa vuol dire torniamo su ID vuol dire che io ho questa tabella connessioni ma questa tabella connessioni non è che sia molto diversa da quello che mi serve per creare gli archi come sempre di nuovo ripeto ho preso un database molto semplice che è questo qua di Metroperis che ha già le informazioni come ci servono poi più avanti magari le cose si complicheranno ma adesso qui ci serve capire il concetto e quindi di fatto se io vado a vedere solamente la colonna stazione di partenza e stazione di arrivo sono già esse stesse le coppie di stazione partenza e stazione di arrivo fermata di partenza e stazione di arrivo cioè inizio e fine di un arco che devo mettere nel mio grafo allora perché non faccio una query semplicemente select id stazione di partenza virgola id stazione di arrivo prom connessioni e questi risultati questo mi dà ovviamente un elenco di 1476 righe ciascuna di queste righe quasi per un attimo ve lo spiego ma qua ciascuna di queste righe quasi è un un arco del grafo dico quasi perché l'arco il grafo noi sappiamo perché l'abbiamo appena calcolato con il metodo 2 ha 1428 archi non ne ha 1476 ne ha di meno perché ne ha di meno vabbè perché questa query ovviamente mi darà tutte le connessioni possibili e se tra due stazioni ci sono più ci sono più di una c'è più di una connessione ci sono due connessioni più quindi ci sono più linee che collegano con le due stazioni questo arco sarà ripetuto se io voglio vedere eliminare questo fenomeno un bel distinct davanti dovrebbe darmi 1428 1428 archi sono esattamente 1428 righe risultanti da questa query quindi vedete che questa query che a questo punto non ha più neanche un parametro perché lei sa tutto mi dà tutto mi dà esattamente gli archi che mi servono punto allora io potrei costruire una lista che contiene coppie di questi elementi qui e sono a posto e io costruisco direttamente l'arco con una complessità con un ciclo che cicla esattamente il numero di archi un numero di volte pari al numero di archi e ovviamente di meno non posso fare quindi una complessità lineare nel numero di archi poiché devo aggiungere 1400 archi non posso sperare di iterare meno di 1400 volte però sicuramente è la versione che dal punto di vista del codice java è la più efficiente dipende ovviamente dal punto di vista della query SQL ci sono alcuni database in cui l'informazione è già qua immediata e quindi eseguire questa query è istantaneo ci sono altri database in cui avere una query in cui mi dia già esattamente gli archi e potrebbe essere diciamo così anche difficile da eseguire non necessariamente difficile da scrivere ma di lenta esecuzione e allora a quel punto per evitare di affossare il database inchiodarlo con una query che magari gira per 10 minuti allora magari mi conviene lato java fare tante query più piccole quindi il discorso metodo 2 e metodo 3 sono un pochino alternativi e vanno valutati in funzione della complessità che avrei nel database avere una query che mi dia tutto proviamo a implementare anche questo metodo 3 allora questo metodo 3 semplicemente mi dice chiedi al chiedi al dammi una lista di coppie di fermate coppie chiediamolo al DAO DAO punto coppie fermate una cosa di questo genere e a questo punto iterò per ciascuna di queste due coppie coppie non è java questo sto solo scrivendo in italiano pseudocodice cosa voglio fare semplicemente a questo punto aggiungerò graph add edge coppia punto partenza c si chiamava l'elemento partenza c punto arrivo la fermata di partenza e la fermata di arrivo di ciascuna coppia quindi in questo caso tutto il lavoro lo fa il DAO mi deve dare già esattamente l'elenco delle coppie partenza arrivo degli oggetti fermata e una volta che ho queste coppie semplicemente le traduco in archi e le aggiungo al grafo quindi dovrò in qualche modo avere un metodo del DAO coppie si scrive con una O e due P dovrò creare un metodo del DAO che restituisca non una lista di fermate ma una lista di coppie di fermate ovviamente dobbiamo a questo punto creare un oggetto che contenga una coppie di fermate quindi un oggetto proprio di servizio che sia utile affinché il DAO possa comunicare col model questo tipo di oggetto è un po' una cosa noiosa però tutto sommato è abbastanza rapida quindi vediamo un attimo come farlo in questo caso lo posso chiamare un oggetto coppie fermate che sarà un oggetto in questo caso che contiene private fermata fermata di partenza private fermata fermata di arrivo e questo oggetto avrà semplicemente i suoi costruttori e i suoi getter sector quindi source costruiamo definiamo il costruttore con i due metodi e poi definiamo i getter sector dfa e dfp fermata di arrivo fermata di partenza quindi coppie fermate e questo oggetto che ci servirà a far sì che il il DAO questo modello restituisca una lista di oggetti che a questo punto esistono prima era solo scritta parole ma adesso coppie fermate questa coppie fermate iteriamo su queste coppie che il DAO ci restituirà con il metodo che scriviamo tra due minuti e add edge c.get fermata di partenza c.get fermata di arrivo quindi dobbiamo solamente creare questo oggetto in più perché purtroppo in Java posso restituire una collection sola e non due quindi ho bisogno dell'oggetto con cui costruire questa collection ci manca ancora ovviamente la creazione di questo metodo coppie fermate lo possiamo creare direttamente dentro il DAO ecco ricordiamoci che ovviamente il DAO avrà il problema di prima lo stesso problema di prima che è quello che lui deve conoscere l'idmap delle fermate perché altrimenti avrà solamente dei numeri interi quindi ci ricordiamo già di passare già subito la fermate idmap allora a questo punto il model dovrebbe essere a posto se ovviamente esistesse nel DAO questo metodo questo metodo che riceve un idmap di fermate e restituisce una lista di coppie fermate noi sappiamo come realizzarlo questo metodo perché è un metodo che semplicemente dovrà eseguire questa interrogazione questa query che avevamo pronta qui plafo e quindi possiamo inserirla per questo punto può anche starci su una riga sola così punto e virgo eseguiamo questa query e quindi ovviamente sempre stesse cose connection con uguale dbconnect punto get connection prepare statement st uguale con punto prepare connection punto close mettiamolo ricordiamoci ti mette il try catch con tutto dentro quindi anche connection lo sposto dentro il close lo sposto dentro eccoci qua e a questo punto devo semplicemente questo statement iterare sulle righe del risultato che sono queste 1428 righe come abbiamo visto prima per ciascuna riga creare un oggetto coppia da restituire e quindi avrò una lista di coppia coppia fermate result che creo all'inizio array list e per ciascun devo eseguire la query quindi result set preso uguale statement punto execute query per ciascun risultato della query costruirò una coppia coppia fermata chiamiamola c costruendo un nuovo oggetto coppia fermata a cui passerò stazione di partenza fermata di partenza fermata di arrivo la fermata di partenza la ottengo dalla idmap fermata idmap get il numero che arriva dalla query quindi la stazione di partenza id statsp della mia interrogazione quindi result set punto get string int id underscore statsp e la fermata di arrivo sarà uguale quindi prenderò la stazione di arrivo che è un intero questo intero attraverso l'idmap mi dà l'oggetto fermata e quando ho finito tutto restituisco il risultato quindi è di nuovo semplicemente scandire il risultato di una query prendere questi numeri interi convertirli in oggetti attraverso l'idmap e accodarli in questa lista che poi il modello andrà a scorrere per creare gli archi allora noi ci aspettiamo adesso che se noi eseguiamo il modo 3 anziché il modo 2 di creazione del grafo no scusate ho commentato il 3 invece devo commentare il 2 commentiamo il metodo 2 ci dovremo aspettare di trovare se non ci sono errori che provvederemo prontamente a correggere ma se non ci sono errori dovremo trovare anche qua 619 vertici e 1428 archi dobbiamo eseguire il model che ci dice 619 vertici e 0 archi perfetto quindi abbiamo sbagliato qualcosa nella nostra query vediamo un po' cosa abbiamo fatto qua sì perché abbiamo creato l'oggetto C ma non abbiamo aggiunto il risultato abbiamo fatto il lavoro ma l'abbiamo buttato via quindi riproviamo ok perfetto 1428 archi 619 vertici esattamente il risultato che ci aspettavamo quindi in questo terzo metodo la complessità qual è? la complessità è esattamente il numero di archi quindi di meno non si può perché ovviamente dovendo aggiungere ne numero di archi archi e dovrò almeno iterare quel numero di volte ma tutta la complessità sta sulle spalle del database se il database è ben indicizzato alle informazioni organizzate bene e quindi ottenere se quella informazione è agevole è rapido allora questo è il metodo più rapido di tutti richiede un pochino di lavoro in più abbiamo dovuto creare ovviamente l'idmap abbiamo dovuto creare l'oggetto di appoggio ma alla fine abbiamo un risultato che è veramente istantaneo di meglio non si può fare però ci sono alcuni casi soprattutto quando gli archi che dobbiamo creare devono richiedere il database di fare dei confronti che non siano confronti di uguaglianza e quindi le join non funzionano direttamente tipicamente se trovo tutti gli archi in cui un elemento è maggiore oppure viene dopo oppure viene insieme a un altro quindi devo avere delle qui danni date con dei confronti che sono maggiore o minore e non sono uguali perché nell'uguale ovviamente voi sapete che la join lavora sull'indice mentre il maggiore e minore deve scandirsi i dati allora magari quella qui di pertenere direttamente risultati è poco efficiente e quindi rischia di impiegare impegnare il database per molto tempo allora in quel caso probabilmente rischia di essere più leggero più efficiente diciamo magari simile dal punto di vista del tempo ma diciamo così con un uso migliore meglio distribuito delle risorse il metodo 2 che abbiamo visto prima in cui dato un vertice mi concentro su quel vertice lì e trovo i suoi adiacenti e ricordiamoci che tutti questi metodi diciamo un pochino più evoluti sono sempre dei casi particolari a cui ricorriamo quando il metodo più becero l'uno il più semplice di tutti non funziona cioè su grafi che abbiano da qualche centinaio di vertici in su se il grafo fosse più piccolo non vale la pena né creare di map né fare delle query più avanzate perché di fatto i tempi di esecuzione sarebbero comunque confrontabili di qualche centinaio di millisecondi quindi lì sotto di un secondo cosa sto ad ottimizzare non vale la pena ma ovviamente quando il problema diventa più complesso allora ci dotiamo di strumenti più evoluti quindi noi abbiamo lì sotto un database che è pronto e capace a fare delle query molto complicate cerchiamo di sfruttarlo cerchiamo di non fare noi in java il lavoro che in realtà il database potrebbe fare molto più facilmente di noi adesso questo nei primi esercizi faremo questi ragionamenti poi così vedremo i vari metodi di lavoro ma poi almeno abbiatele diciamo così in mente metodo 1, 2, 3 un arco per volta un vertice per volta tutti gli archi insieme che sono questi tre metodi e così quando vi approcciate a un nuovo esercizio un nuovo problema provate a ragionare un paio di secondi su quale strada scegliere su quale metodo usare per implementarlo con questo vi lascio ovviamente la soluzione di esercizio su GitHub e vi saluto fino alla prossima settimana